ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua ancora una volta con un altro episodio della simpatica rubrica reaction ai vostri video ossia guardiamo assieme le video collezioni degli amici del canale voi che state guardando pratica diventate protagonisti della trasmissione come si suol dire poi diceva frassica e ci divertiamo guardando i vostri orologi cosa ne pensate cosa fate il vostro percorso in questo simpatico hobby e niente di più niente di meno quindi l'orologio del giorno di oggi è questo bellissimo long in spirit 40 mm diametro cassa quadrante blu calibro certificato cost derivato dall'eta 28 92 suo lontano antenato poi è modificato le alternanze sono abbassate 25.200 all'eserva di carica 72 ore la spirale è libera che c'è con la regolazione inerziale insomma un calibrino simpatico che funziona benissimo è nulla da dire in esclusiva per l'ongilo fanno è da 25.200 alternanze orari detto questo passiamo il video dai dito infocato barra spaziatrice pronta a subire i colpi del destino e il destino inizierà proprio in questo momento ciao davide ciao a tutti gli amici del canale un saluto sono gaetano sono originario della sicilia ma vivo a milano ma voglio presentare la mia piccola collezione di orologi che ho iniziato qualche tempo fa da due annetti circa allora iniziamo con un emilton il classico si è visto più volte sul canale cari meccanical questo ne ho comprati tre praticamente gli altri due le ho regalate ai miei testimoni di nozze però diciamo che ha un valore particolare questo orologio ho cambiato cambiato il cinturino quindi questo mi lega ai miei compari diciamo vai tranquillo finché non ti forzi va bene poi un altro orologio penso iconico so che a te non piace no il grisin l'airman il primo se non sbaglio dovrebbe essere il primo gmt della storia forse un anno prima di che rolex presento il suo primo gmt se che dire bellissimo dimensioni ridotte molto particolare sulle 24 ore cioè io già adesso così no bianco bianco su bianco faccio già fatica a leggerlo no poi con i numeri sulle 24 ore non ci capirei niente poi con i numeri all'interno poi sulla ghiera per me diventerebbe confusionario al 100 per cento è proprio non che ore sono boh piglio il telefono e guardo che ore sono perché anzi capisce bella la vestibilità mi piace tanto per il prezzo che ha secondo me calibro sellita fa il suo 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 non si sbaglia mai il muletto di tutti i giorni un classico 6 co 5 quadrante ghiera verde ho seguito i tuoi consigli del video mi hai fatto sui bracciali strap code infatti ho preso un un bracciale jubilee strap code come va già si può vedere dalla clasp la chiusura non è il classico lamirino stampato e fa veramente la sua sporca figura per quello che costa con col bracciale secondo me ci sta ci sta dai poi poi visto e rivisto sul canale ma a me piace tantissimo black bag 58 classico da 39 io ho il polso piccolo quindi misura pressoché perfetta per quanto mi riguarda che dire movimento di di manifattura certificato costo certo bello un po graffiatolo io gli orologi li uso e purtroppo c'ho la sfia che urto sempre sui muri sugli spigoli sei un urtum urtum poi questo è un bomber si è questo è al quarzo d'oro anni 80 questo era di di mio padre che purtroppo è venuto è venuto a mancare spia qualche mese fa e l'ho voluto restaurare in questo caso devo ringraziare il maestro del tempo qui a milano che è riuscito a recuperare un introvabile pezzo di ricambio per questo orologio l'ha rimesso l'ha rimesso in vita e poi ho fatto fare questo cinturino dall'amico john kustraps che io ho raccontato la storia e me l'ho omaggiato quindi faccio un po di pubblicità per lui gran brava persona gran brava persona al giorno d'oggi difficile trovarlo io ho mandato un regalo ovviamente per provare a sdebitarmi fa piacere dai molto bello super sottile faccio un lavoro che richiede l'abito tutti i giorni quindi questo lo metto tutti i giorni il ricordo di papà questo probabilmente lo dovresti conoscere ce l'ho anch'io topino loris big crown pointer date la versione mare nostrum ce l'hai anche tu l'hai recensito quindi vado velocemente bello in bronzo virato l'orologio molto particolare mi piace mi piace un sacco oh yeah e poi l'ultimo ritrovamento cos'è questo lo prendo e vai non organizzatevi prima eh improvvisate che torna bene è la zenith di mio nonno che ho fatto restaurare e revisionare sempre dal maestro del tempo tiralo fuori con calma vai sempre dal maestro del tempo ho trovato in un cassetto era di mio nonno ho fatto solo cambiare il plexi che era segnato si ma ci manca la lunetta ci manca il quadrante l'ho lasciato integro volutamente corono originale adesso metterò un bel cinturino nero in coccodrillo penso e anche questo quando lo indosserò ricorderò il mio nonno che non c'è più va bene grazie a tutti spero che la mia collezione ti sia piaciuta con l'augurio di accrescerla adesso ho puntato a un orologio iconico il moon watch quindi mi devo trattenere nell'acquistare in giro orologi e tenere e iniziare a preparare il budget per quell'acquisto importante grazie a tutti gli amici del canale continua così ciao a tutti love ciao 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 love ora quello zenith alla fine a me mi sembrava incompleto mi sembrava ci mancasse la lunetta non lo so aiutatemi voi perché non hai fatto nessun accenno a questo fatto si presume che arrivi così poi se te l'hanno restaurato te l'avrebbero messa però a vederlo così mi sembrava senza lunetta come incompleto mi dava l'impressione bene poi c'è l'orologio del babbo l'orologio del nonno il black bay che lo utilizzi tutti i giorni bella la storia che l'amico John Kostrup ti ha regalato il cinturino per l'orologio del padre fa sempre piacere quando un amico John è mio amico fa qualcosa di buono che poi ricade anche su di me cioè me ne vantano comunque dai complimenti per gli orologi in bocca al lupo per il moonwatch anche se a me mi sta sempre un po' più stufando quindi però capisco che in molti lo bramano eh lo vogliono in collezione eh anch'io sono sono titubanti se tenerlo o meno eh a finire che lo tengo però quando lo indosso non è che mi che mi dà piacere non fa il suo hai capito non mi dà soddisfazione un saluto a te Davide a tutti gli amici del canale io sono Federico Federico vi aggiorno sulla mia collezione dai non sembra una perla dopo la puntata del 15 maggio 2020 dove presentavo questo unico orologio che è stato l'inizio di tutto è un orologio che posseggo dal 92 93 e poi la successiva puntata del 26 dicembre 2022 dove presentavo l'intera collezione qui in questo momento sto utilizzando un'altra scatola che prevede anche due parti motorizzate come scatola del tempo e mancano alcuni orologi vintage in ogni caso volevo aggiornarvi su quello che sono stati gli ultimi acquisti rispetto a quello che era il 2022 in particolare volevo presentare questo IVC è un mark 20 è un orologio pilot simpatico di conseguenza si rifà quella che è la tradizione degli orologi che IVC ha prodotto ora no guardate bene questo già dalle immagini così no bassa risoluzione lui poi c'è youtube tutto quello che volete però già quando uno prende in mano un IVC pilot lo si vede la qualità le finiture si percepisce che la qualità perché il design è quello del pilot del flieger va bene mettiamo così flieger pilot che quasi ogni casa si permette di realizzare perché è un design diciamo sdoganato fa parte di orologi militari quindi però la qualità la qualità la si vede la si percepisce di questi IVC rispetto ad un ad un laco da 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 400 euro no tutto quello che vuoi te durante il periodo bellico per la luce waffe così mi sembra sia oltre forse anche a alla all'aeronautica inglese però su questo magari mi darai tu dei dettagli davide e usi è una di quelle case che forniva la luft waffe per gli orologi flieger da dai bombardieri gli osservatori dei bombardieri e si era una di quelle case che forniva anche gli alleati cioè la svizzera neutrale quindi si permetteva di fare un po come gli pareva figuratevi un po forniva sia di qua che di là business is business cioccolata banche orologi e dagli dentro l'orologio mi piaceva da un po di tempo che vedevo questi mark al in vetrina nelle varie serie poi da quando ho scoperto che i vc ha cominciato a produrre tramite il il gruppo richmond il suo movimento che poi fondamentalmente è un movimento wolf laurier che è lo stesso movimento che monta anche il santos di cartier che vi ho già presentato ma sì infatti è classico no dei grandi gruppi no cercare di ottimizzare le risorse hanno una una casa casa che produce calibri for free valfrey e riproduce sia per per i vc per bom e mercier per cartier cioè funziona così come è tali produce per il gruppo swatch come ad esempio che inissi li produce per tudor e per un'altra serie di marchi quali bright ring bell e ross fortis e che dir si voglia no cioè c'è questa sinergia costruttiva di aziende che cioè forniscono i calibri a più più case no è normale non dobbiamo scandalizzarci non dobbiamo non considerarli perché non sono esclusivi quando appunto ho scoperto che i vc su questo tipo di orologi montava un movimento di manifattura ho preferito acquistarlo non so se poi sia particolarmente migliore o inferiore a un movimento eta ma in ogni caso è un è sempre un vero orologio si non c'è ragazzi cioè a un certo punto bisogna anche smetterla di decidere di comprare qualcosa solamente per il calibro il calibro è una componente importante dell'orologio se di manifattura tra virgolette meglio se è esclusivo meglio ma poi a fare le gare meglio uno meglio l'altro meglio questo meglio quell'altro è ci si va in pela gara in situazioni cioè l'orologio deve dirti il tempo se un orologio ti scarta un secondo al giorno e quell'altro ti scarta un secondo al giorno basta è il risultato finale poi vogliamo andare a vedere dietro cosa c'è dentro cosa c'è scopri che allora quando ho fatto tutto magari finiture manuali sono valori aggiunti sono no ma se un orologio non mi piace può avere il calibro più rifinito fatto dagli ignomi che a me non me ne frega niente mi piglio quello con l'etac mi piace un casino hai capito cosa voglio dire mio brightling cronomat gmt che dentro c'è letta 28 93 e cavoli e mi piace quell'orologio lì non è che mi vado a prendere un orologio col calibro in house artigianale che però non mi piace cioè perché devo fare il figo che farti vedere che agli amici e questo qua c'è il calibro patipitipi tipo dopo i piti per tappa papapapapapa poi me lo metto non mi piace perché non mi piace perché magari è troppo classico come ad esempio i Lange Unzone tutti belli bellissimi calibri bellissimi orologi ma ve li comprate voi perché a me non mi piacciono hai capito? cioè non mi piace un Lange Unzone è troppo classico troppo formale come orologio non ci riesco non ci riesco a spendere quei soldi in un orologio del genere quindi quei calibri dei Lange Unzone stupendi tutto quello che vuoi anche io sono il primo a portarli così ma quando c'è da spendere soldi me li spendo anzi in un orologio che mi piace non so se mi spiego indipendentemente dal calibro cioè ragazzi si tratta di un diametro 40 ed è abbastanza portabile leggibilità fantastica come tutti i Pilot del resto è sempre un bel orologetto un po' caro per le caratteristiche che ha direi che è un po' caro anche qua il discorso dei prezzi un po' caro tutti gli orologi costano troppo tutti gli orologi costano troppo se uno dovesse parlare solamente degli orologi che costano poco si ritroverebbe sempre a pagare dei Pagani Design dei Courget degli Orient e dei Secco 5 dei Vostok parliamo sempre di questi orologi perché? perché sono a portata di tutte le tasche e sono costano poco quando si va sopra gli orologi costano tutti troppo anche quelli che costano 1000 euro 2000 euro 3000 costano troppo rispetto a quello che è costano troppo questo è un punto fermo quindi non rompetemi qui le scatole con i prezzi degli orologi costano troppo se non vi interessa un orologio perché costa troppo lo lasciate lì lo lasciate in vetrina perché loro i prezzi li fanno in base all'appeal cioè quanto è disposto a spendere un consumatore un consumatore non un appassionato un consumatore ci vedono come consumatori quanto è disposto a spendere un consumatore per questo orologio con questo marchio? 3000 e io lo metto a 3000 poi state i consumatori dire no io non lo voglio quell'orologio li costa troppo per me e ne prendi un altro però sappi che quando vai a prendere quell'altro costa sempre troppo per quello che cioè per il suo costo di realizzazione per quello che c'è dietro hai capito? quindi la proporzione è quanto sei disposto a spendere qual è la tua disponibilità economica perché l'amico qua guardate che orologi ha ha una certa disponibilità economica figuriamoci se dice no mi compro anzi un Seiko 5 piuttosto che un EVC perché? perché il rapporto qualità prezzo è migliore ma no ma se io c'ho i soldi mi compro l'EVC da 5-6 mila euro e buonanotte al secchio hai capito? ma l'aggiornamento che mi interessava più di tutti è su questo su questo modello qui allora questo qui tanto cara mi è questa azienda questo qui è un Gégé Lecoutre Master Control calendario completo che quando l'ho visto in vetrina mi ha stregato probabilmente sono vittima del fascino di questo marchio ma uno degli aspetti che più di tutto mi ha mi ha portato poi a a valutare l'acquisto è il fatto che il suo diametro 40 lo rendeva comunque sufficientemente portabile nonostante sia un classicone se vogliamo ma l'aspetto come dicevo che mi ha intrigato di più è il fatto che la sfera della data che potete vedere qui arrivando al giorno 15 al giorno 15 io spero si riesca a vedere perché sto utilizzando un cellulare arrivando al giorno 15 per evitare di coprire questa zona che è la zona delle fasi lunari fa un salto e passa dal giorno 15 al giorno 16 occupando praticamente in questo salto un quarto di quadrante è una così una piccola complicazione che però me l'ha fatto amare del tutto priva di utilità se vogliamo è solo un vezzo estetico il fatto di appunto di evitare che non è solo un vezzo estetico si va bene mettila così però è un esempio di come Gégé Lecoutre che fa calibri da sempre ne ha fatti una marea forse è la casa che ha più fatto calibri in house nella storia non vorrei dire una castroneria ma siamo lì li montavano tutti tutti i marchi come Edomor Piguet bla 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 e per loro magari fare questa complicazione aggiuntiva è un gioco da ragazzi capito hanno detto cavolo ma non ci passiamo sopra lì che potrebbe dare fastidio facciamogli fare il salto si basta fare questo te lo fanno passare sopra Gégé Lecoutre è una di quelle case che fa orologi a prezzi ancora decenti con un valore decenti per modo di dire non so siamo sopra siamo intorno a 10.000 e oltre però per per la casa che non ti fa pagare quanto uno De Morpighet per esempio che fa orologi classici nei quali si può trovare qualcosa di interessante con un calibro veramente del quale potersi vantare con gli amici mettiamola così però anche qui questo qua è talmente troppo classico che io non lo comprerei è capito nel senso che il fase luna per me è veramente lezioso non mi piace il fase lunare tutto bianco così 40 mm ho visto lo spessore c'è anche lo spessore insomma se devo spendere un tot di soldi vorrei qualcosa di differente di più sottile di più leggibile di leggermente più sportivo ed ecco fatto che il calibro di primo ordine non è sufficiente per me per spendere quei soldi in questo orologio quindi magari quei soldi che costa questo orologio preferirei prendere un orologio magari sportivo in acciaio con un calibro inferiore sempre tornando al discorso di prima la sfera della data vada a coprire quello che è il sottoquadrante delle fasi lunari è un orologio che mi piace mi piace molto mi piace questo marchio volevo sapere anche un po' il tuo parere non ho altro da aggiungere se non che la scimmia c'è sempre è sempre qua che mi soffia e quindi probabilmente c'è il rischio di fare qualche altro acquisto nei prossimi anni un saluto ancora a tutti e grazie Davide grazie a te attendo i tuoi commenti c'è poco c'è poco da commentare la collezione l'aveva già vista l'altra volta solamente questo Gigi Lecutre è un marchio che io tengo spesso sovente almeno una volta alla settimana vado a vedere cosa può interessarmi cosa c'è da studiare lo studiabile e chiaramente il reverso è quello che te ne hai due ho visto è quello che al momento mi intrippola intrippopola intriffala di più anche perché è completamente diverso un rettangolare in collezioni non c'è lo Gigi Lecutre non c'è lo marchio calibro tutto quello che c'è intorno ma tutto perfetto quindi è il Gigi Lecutre reverso quello che al momento mi intripa di più poi sono andato a vederci sono altri orologi che mi piacciono della casa il Polaris il Polaris è il diver con due corone ne fanno una versione da 43 e una da 41 quello da 41 è senza data quello lì sarebbe anche con lì un bello orologio papabile però anche lì non mi convince non ho mai provato il Polso e a volte dico sì bello a volte dico no non mi convince è sciapo due corone come tanti altri solamente perché c'è scritto Gigi Lecutre sopra boh non lo so bisognebbe che lo vedessi dal vivo che non l'ho mai visto e allora magari potrebbe scattare la scintilla oppure il Master Geographic quello con le varie complicazioni quello lì è un orologio che anche tengo sotto controllo però anche lì si va sopra i 10 però è uno di quelli che mi piacciono poi per il resto io faccio così anche con molte case a volte prendo dico vado a vedere Breguet fammi andare a vedere sul sito di Breguet quali orologi offre se c'è qualcosa che vado lì e la maggior parte no 99 su 100 non mi piacciono cazzo perché sarà una casa coi coglioni e sarà sì una casa c'è solamente ci sono solamente i type 20 i type 21 i cronografi che possono rientrare nei miei gusti poi guardi lo spessore sono spessi 15 mm io gli dico ma scusami ma io devo spendere 15.000 euro in un orologio che è spesso così perché non sei in grado di farmelo sottile hai capito non ce li spendo e rimane lì di Breguet non c'è niente che mi piace praticamente eppure una casa coi e così per altri marchi vado a vedere Audemars Piguet oltre al Royal Oak che ormai non se ne può più è stucchevole ormai il Royal Oak poi vado a vedere le altre collezioni niente di interessante niente di Vacheron Constantin uguale c'è l'Overseas anche quello lì dopo un po' niente di interessante veramente il nulla troppo classici troppo quindi uno dice ma quei marchi lì cosa li prendo in considerazione a fare fanno calibri orologi fanno veramente roba di bello di bello da dire cavolo me lo indosso no non ci trovo niente di bello capito cioè preferisco un orologio da 2000 euro che mi dà soddisfazione che fa il suo diciamo la verità ciao Davide sono Alfonso dall'Abruzzo e voglio presentare la mia collezione prettamente vintage come puoi vedere io partirei dal cronografo al quarzo al quarzo il batteria l'unica batteria che avrei oggi in questo video perlomeno meno male è un formula 1 edizione imitata chimera ecco anche comunque senza tenerlo perché è molto raro ci sta anche se se non sbaglio Tagore è stata una delle prime case a implementare la plastica nei suoi orologi oltre swatch ci so poi passiamo questo qui questo è un pezzettino un radier cronografo carica manuale secondo me non l'apprezzerei per il 40 troppo bianco e non mi ripeti che non capisco il motivo dei numeri verdi è molto carino non è male molto bello si fa portare ci sta dai è un placatone è un placatone poi passiamo al mio preferito di crono cos'è? prime marshal carica automatica 250 pezzi in mondo se ti chiedi perché le sfere le 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 lancette scusami sono così diverse dalla lancetta del crono è perché dovevo rimetterle ma erano finite non si trovavano più quelle originali perché questa è una placatura e non si trovavano quelle placate peccato veramente però mi piace molto di più così è un accrocchion un accrocchion placato ma dai poi passiamo alle chicchette vai questo Enicar come puoi vedere molto bello molto bello questo fatto della ghiera interna che è spettacolare secondo me questa finitura questi sono orologi che vanno comprati e vanno goduti veramente sinceramente a me mi piace zero questo orologio proprio già il fatto che tutto argento tutto argento le sfere argento cassa argento si capisce niente non si capisce una forma non si legge intanto non si legge poi non si capisce la forma cioè a me non piace proprio non poi se ti dici che sono questi gli orologi a comprare contento te contenti tutti sono dei baby orologi di Enicar compratevi finché potete finché hanno un prezzo successibile perché secondo me avranno un prezzo allucinante fra qualche anno a parere mio poi ognuno fa quello che vuole con i suoi soldi bravo e niente questo Enicar l'ho preso al prezzo di un 6.5 quindi è stato un grandissimo affare è contento te poi uno dei tuoi preferiti è uno dei tuoi preferiti della collezione l'oncine 30L bellissimo praticamente nuovo l'orologio pagato anche questo al prezzo di un 6.5 mamma mia che culo ne ho profittato che fa di un l'oncine 30L te ne aprivi in collezione ah no non credo proprio ah no bravo poi cosa il golden boy della collezione zenith stellina del mio bisnonno ah non l'ho detto ma tutti molti orologi di questa collezione tranne questi due sono ereditati ah beh e questo è uno zenith del mio bisnonno e lui l'ha voluto far diventare così e io l'ho lasciato così perché molto probabilmente non è originale questo orologio soprattutto la corona perché non è logata ma potrebbe essere una corona originale o una corona sostitutiva poi le sfere zenith così io sugli zenith non l'ho mai vista queste alfa così sugli zenith e poi anche colori differenti non sono le sue sarà una crocchio ma anche sto qua ma cosa ne so io è sempre difficile valutare gli orologi vintage te lo passa il nonno vabbè uno dice vabbè era del nonno sarà tutto originale invece no cioè ci sta benissimo che ci abbia messo le mani qualcuno non funzionava l'ha portato a riparare si ti ci metto queste lancette si vai mettice basta che funziona metti le lancette cambia la corona anche la cassa non lo so però si è sempre questi dubbi qua quando si vedono invece il 30L per esempio mi sembrava coerente la cassa così tonda con quelle ansette che spuntano fuori è un 30L come dovevano essere faccio vedere questo lancor è un modello molto particolare che non ho visto spesso sul tuo canale rettangolare così era un modello femminile infatti me l'ha dato mia nonna ed è un una cassa molto particolare è cioccolato mi piace un botto anche se questo bianco è troppo troppo bianco non mi fa impazzire questo lancor sinceramente poi il fratellino dello Zenith come puoi vedere sono più o meno dello stesso periodo se non mi sbaglio perché questi erano entrambi orologi della collezione mio bisnonno e niente il prossimo è l'ultimo non si è capito niente penso di essere abbastanza abbastanza veloci 4 minuti di averti fatto vedere tutti questi orologi e questo è il famoso sul sul canale telegram è famoso perché ho postato una foto e alcuni si sono indignati sul fatto che ci abbia messo un nato top al james bond che è lo stile james bond al posto del suo cinturino rolex il suo cinturino rolex bracciale ma tranquilli che ho anche quello quindi quando voglio posso rimettercelo bravo detto ciò è tutto un saluto dall'abruzzo quando vuoi passa che ci mangiamo due rosticini insieme grazie buon proseguimento love 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 praticamente zii nonne tutti orologi ereditati e sono buoni anch'io far vedere la collezione degli altri però dai tutti vintage praticamente vintage neo tutti vintage tranne che il submariner tutti vintage bravo hai un orologio modi o sono un pochino più per gli orologi moderni oppure per una collezione specifica di orologi vintage come sapete io faccio la collezione dei longines vintage e raramente mi lancio in acquisti al di fuori dei longines vintage lo facevo andavo al mercatino compravo il lanco compravo quello che ti pare a te allo zenith ho comprato vari marchi ti so gli orologi vintage poi mi sono reso conto che è troppo dispersivo perché acquistare compulsivamente i orologi vintage da tenere lì così senza un senso allora caccelli tutto vendi tutto quello che non ha interesse ad avere ti concentri sui longines quando trovi un bel longines vintage che vale la pena lo prendi lo metti nella collezione e ti guardi tutti i tuoi longines vintage insieme e parallelamente vai avanti con gli orologi nuovi e semi nuovi di secondo polso di 5-10 anni usati moderni contemporanei è questa la mia diversificazione cioè è quello che fa per me la collezione degli orologi contemporanei e vintage longines siccome uno può dire magari i longines vintage magari costano un pochino di più lo puoi scegliere in qualsiasi marchio o una qualsiasi tipologia vuoi fare la collezione dei longines vintage e fai la collezione dei longines vintage oppure vuoi fare la collezione di orologi vintage dal 71 al 79 degli anni 70 fai quella collezione lì insomma oppure solamente i seico vintage degli anni 70 e fai solo quella collezione lì cioè secondo me dare un senso al percorso un obiettivo ci aiuta primo a concentrare le risorse economiche in un dato ambito e secondo a impegnarci a studiare un dato settore perché è impossibile sapere tutto di tutto tutto di tutti cioè non si può essere onniscienti sapere tutti i calibri della zen tutti i calibri della longines tutti i calibri dell'omega come hanno fatto le varie referenze è impossibile devi documentarti ogni volta se invece ti concentri su un settore un determinato finito dall'inizio alla fine hai la possibilità di studiare e di farti rimanere nella chiorbetta tutte quelle informazioni utili poi a proseguire ad andare ad un mercatino guardare un orologio e sapere di cosa stai parlando tutto lì ciao Davide sono Antonio Dabiella e ho deciso di guardarti il video della mia piccola collezione dopo che mi sono appassionato questo mondo da circa una decina di mesi soprattutto guardando i tuoi video online bravo dieci mesi poco dieci mesi guardiamo cosa hai fatto in dieci mesi intanto guardiamo cosa hai messo lì qui in A Kind of Magic It's a Kind of Magic Californication che è chiaramente dei Red Hot Chili Peppers e poi Elvis questo qua sicuramente è una raccolta perché non ricordo una copertina di un disco di Elvis Presley fatta così però c'è l'orologino al pulso Elvis Presley se si riuscesse a capire così sarebbe interessante bravo abbiamo capito che sei un appassionato di musica musica come si deve parto con gli unici due orologi vintage che ho che appartenevano a mio nonno che purtroppo non ho mai conosciuto si è venuto quindi il mio papà e ho deciso di revisionarli e tenerli in collezione ok il primo è questo avia placato oro a carica manuale anni anni 70 l'ho fatto revisionare monta un calibro ETA 24-08 gli ho montato questo cinturino in pelle marrone ovviamente non originale in quanto il suo era veramente distrutto non lo indosso praticamente mai lo tengo in collezione giusto per per ricordo ci sta bravo passo poi al secondo e ultimo vintage sempre del nonno che è questo Berna Watch anni 30-40 non conoscevo il marchio ho fatto qualche ricerca online e ho scoperto che è un marchio svizzero nato nel 1864 con un altro nome aveva il nome dei due soci fondatori che poi è mutato in Berna Watch all'inizio del 1900 questo marchio poi risulta essere andato a morire a metà degli anni 60 l'ho fatto revisionare ho dovuto sostituire lancetta crono in quanto era rotta per il resto l'abbiamo quindi rimesso in funzione esteticamente l'ho mantenuto com'era perché mi piace pensare che l'ha indossato il nonne quindi portare i segni del tempo addosso sia sul quadrante sia sulla cassa che era cromata e che ho lasciato così com'era si poi segni del tempo che non sono nemmeno tanti perché non è che hai messo male che è illegibile che sta per implodere in se stesso che hai tenuto bene per avere tutti quegli anni lì è un secolo e quanto c'è no quasi gli anni 30-40 ci siamo quasi io ho poi soltanto ovviamente sostituito il cinturino mettendo questo cinturino in pelle nera bravo specifico in quanto l'orologio alleanze fisse anche questo non lo indosso praticamente mai lo tengo in collezione sempre per il ricordo del nonno e fai bene passiamo poi al primo orologio moderno che è un orologio che mi ha regalato l'amorose che mi ha fatto appassionare questo mondo ed è questo bomber si è classima a batteria un orologio elegante che ho indossato nelle situazioni formali non è ovviamente propriamente un dress watch in quanto ha comunque un diametro da 40 mm quindi abbastanza grandicello diciamo che lo trovo carino e ormai non lo indosso quasi più perché preferisco indossare orologi meccanici e niente lo teniamo comunque in collezione passiamo poi al primo orologio automatico che mi sono regalato guardando la tua recensione sul canale ed è questo Seiko 5 con il dial color blu solei su questo ce l'ha a dire poco insomma sappiamo l'ottimo rapporto qualità prezzo che ha Seiko ho deciso poi di acquistare questo bracciale della Strapcode perché volevo rendere l'orologio un po' più elegante un bracciale veramente ben fatto e mi piace veramente tanto lo trovo molto comodo è un bel orologio questo è quello che indosso di più infatti è quello che porta più segni di usura ma infatti questo Seiko 5 qua no SRP SRPE mi sembra sono quelli che consiglio cioè io consiglio quando uno vuole un orologio per tutti i giorni no bello fatto bene che sta bene al polso no perché poi è quello che conta che sta bene al polso io l'ho provato lo fai così ti sembra un orologio di classe superiore consiglio questi Seiko 5 qua questi qua moderni senza la ghiera per intenderci poi c'è l'SRPD che c'è la ghiera e poi con questo bracciale qua che costa quasi quanto l'orologio diciamo la verità lo Strapcode diventa proprio ma si può lasciare anche quello originale però con il Jubilee così bello è più bello è più farò una bella figura al polso ragazzi mi sono poi appassionato i diver e volevo un orologio da utilizzare al mare l'ho deciso tra il Kamasu e il Promaster e poi la scelta è caduta su questo Promaster Pepsi con il suo bracciale in acciaio lo preferisco con questo bracciale piuttosto che con il cinturino in gomma perché non mi entusiasmano i cinturini in gomma anche se ho visto negli ultimi video che tende ad arroginirsi quindi presumibilmente per la prossima estate acquisterò un nato e lo indosserò fiero con il suo bel il suo bel nato ora non lo so questa cosa c'è stato un utente che gli ha detto gli si è arrugginito mi sembra poi nei commenti sotto tante altre gente che ha detto ma non è vero a me non mi è successo niente ma cosa stai dicendo cioè attenzione a prendere per oro colato quello che dice qualcuno cioè a questo punto ti invito fai la prova a te fai la prova a te ci fai un'estate al mare se si arrugginisce lo butti via ci metti qualcos'altro oppure proprio in prima persona no non è che ti devi fermare perché se qualcuno mi ha detto che arrugginisce provalo testalo su questo ovviamente non c'è nient'altro da aggiungere rimanendo in tema di diver ho poi alzato un po' il livello e mi sono comprato questo Longinne Indrecon questa 39 bello top ghiera in ceramica 39 per il mio polso lo trovo perfetto il 41 troppo grosso soprattutto per lag to lag mi piace anche molto molto di più rispetto a quello con la ghiera in acciaio in quanto ha il quadrante molto più pulito rispetto rispetto all'altro l'ho comprato di secondo polso l'ho comprato molto bene ha qualche segnetto di usura però tutto sommato gli orologi vanno vissuti ha comunque ancora quasi tutta la sua garanzia ufficiale Longinne quindi sono veramente soddisfatto di questo orologio che lo so sia in situazioni un po' più formali come può essere l'ufficio sia quando esco tutti i giorni quindi un po' più sportivo bravo bravo rimanendo sempre in casa Longinne ti faccio vedere l'ultimo entrato nella collezione che hai anche tu diciamo che mi ha influenzato poco nei miei acquisti ed è questo Legend Diver da 39 io l'ho scelto col quadrante blu bravo quando l'ho visto dal vivo l'ho preferito il quadrante nero mi è sempre piaciuto il Legend Diver da quando l'ho visto la prima volta però il diametro 42 era troppo grande per il mio polso e quello da 36 troppo piccolo oltre al fatto che il bracciale in maglie non mi entusiasmava molto come ho visto la tua recensione che è uscito quello da 39 ho deciso che l'avrei comprato anche se effettivamente non avevo in programma di comprarlo così così presto però in questo ultimo ponte dell'Immacolata sono venuto a fare a passare qualche giorno giù in Toscana tra Firenze e Pistole ed intorni e mi sono detto perché non andare a Via Reggio a fare un giro dal buon Giacomo bravo quindi sono entrato e niente l'ho visto e ho fatto acquistarlo diciamo mi sono fatto veramente un super super regalo di Natale costi chiaro veramente veramente splendido bravo passiamo poi all'ultimo orologio della mia collezione orologio che non ha bisogno di presentazioni e questo Breitlin Cronomat GMT questo è l'esempio che dicevo prima io ce l'ho blu sinceramente blu è più bello che bianco ora non è perché ce l'ho io ma blu è più bello che bianco però anche bianco mi sembra che io l'ho recensito bianco forse non me lo ricordo vabbè mi sa che è uno di quelli che si legge anche sto qua perché ora così magari in video dal vivo è meno bianco è più opaco è l'esempio che facevo io prima un orologio con calibro di intelletta 2893 o l'equivalente sellita addirittura non è che ne siamo così sicuri è che però è bello a me piace è casino questo orologio qua è uno dei miei preferiti se ci fosse solo tempo magari a me il GMT non mi serve a niente però l'ho preso GMT perché non c'è solo tempo da 40 l'orologio che hai anche tu in collezione io l'ho preferito con questo quadrante bianco perché mi piaceva molto come risalta la sfera GMT rossa su questo quadrante orologio ovviamente il mio preferito un bracciale releux 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 l'avevo visto a inizio anno in Boutique Brightling a Milano mi ero recato perché avevo visto online il premier e volevo provarlo però da quando avevo provato poi questo Cronomat me ne sono innamorato e mi è rimasto il pallino anche se lì per lì non l'ho acquistato poi quest'estate mi sono recato in vacanza in Vietnam e verso fine vacanza precisamente a Docimin sono per caso passato davanti alla Boutique Brightling che aveva aperto da neanche una settimana e sono entrato c'era e mi sono fatto questo splendido splendido regalo il ricordo della vacanza in Vietnam penso infatti che non uscirà mai dalla mia collezione veramente il mio orologio preferito e lo adoro e niente e niente questa è la mia piccola collezione spero ti sia piaciuta ci sentiremo sicuramente in caso di aggiornamenti della sono qua della mia collezione un saluto a te e tutti gli amici del canale love 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 e lui va in Vietnam a fare le vacanze io in Vietnam ci andavo a sparare ai Vietcong ci andavo a quel tempo monsoni mangiavo i topi nelle pozzanghere era stata una vita dura dura ma lui ci va in vacanza belli belli orologi soprattutto gli ultimi due euro non è che perché ce li ho anch'io ma è d'altronde il Brightling Cronomat con il bracciale è tanta roba mi piace tanto è chiaramente il Longin Legend due orologi che mi piacciono veramente sono molto belli c'è poco da dire io me li indosso con piacere faccio fatica a lasciarne uno indietro poi ogni tanto devo dare spazio a tutti gli altri perché lo spirito non è male è bella collezioncina sei stato anche simpatico nel raccontarcela ci hai spiegato come li hai acquistati perché dove anche questo è interessante quando parlate dei vostri orologi spiegateci un po' il retroscena più che dirmi che c'è il vetro zaffero e il fondello avvitato detto questo bravo sei stato promosso non serve che torni a settembre ragazzi mi sembra di aver detto tutto quindi boom siamo a posto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video dei nostri amici il video in generale il presentatore e l'orologio del giorno e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love love Grazie a tutti.